e ciao ciao Soveria Mannelli che abbiamo scoperto essere il baricentro della Calabria ciao io non lo sapevo mi dispiace sono anche abbastanza forte in geografia perché ho girato il mondo per il mio sport però non conoscevo questa cittadina e verrò a trovarmi molto presto quindi Soveria Mannelli state tutti pronti perché Mara Sant'Angelo sarà con noi nel Giro E di quest'anno sicuramente non potrò fare la tappa a Soveria perché durante quelle date ci sono gli internazionali d'Italia a Roma quindi dovrò seguire il tennis che fin da piccola è stata la mia più grande passione però mi diletto come abbiamo visto l'anno scorso nel Giro E anche nella bicicletta adoro e poi io sono originaria del Trentino quindi lì ci sono dei... le gambe ce le hai sì ma ci sono anche degli scenari meravigliosi che ti permettono veramente di goderti dei panorami fantastici allora aspettiamo Mara su Giro E ci vediamo presto ciao 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 Grazie per la visione!